...ha il potenio sulla terraferma, servire nel resto d'Italia e questo per dare piuttosto un quadro insieme di tutta questa faccenda del petrolio. Allora, qua c'è il nostro buon consanto, vedete che ci sono tutte le concessioni petrolifere nel mare della terraferma, in base di casa, nel resto della pura, in casa, eccetera. Quindi, insomma, è una situazione abbastanza preoccupante, perché come vedete, la maggior parte della cacchina ha tutte queste concessioni. Diversi colori significano il diverso stadio di avanzamento dei concessori petrolifere, alcuni sono ancora in inizio dello iperautorizzativo, altre invece sono già verso la rinnessione. Quindi, insomma, vedete che ce n'è un po' di scelto di colori. E questa invece è la situazione più allargata verso l'Italia e vedete che è veramente una situazione che ci accomuna tutti quanti, non è una questione di no, 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 di no. Allora, questa situazione che dovrebbe essere il germino del mondo, che invece vedete qualche posto in campo petrolifere dalla Piemonte fino all'estremo appunto della Sicilia. Allora, come si svolgerà questa nostra troppo del senso di oggi? Cerchiamo di guardare i testi e i passi di questa operazione petrolista, da come si inizia a come si prosegue e con tutte le conseguenze una volta che le operazioni vengono risolute. Allora, che cosa dobbiamo fare? Stiamo arrivando a cercare, a scalare il petrolato, che cos'è che dobbiamo fare? Beh, intanto dobbiamo sapere se il petrolato c'è o non c'è molto petrolato e questo si fa appunto in questa fase esplorativa in cui si utilizzano queste che vengono chiamate ispezioni sismiche e cioè consiste nel non fare ancora il buco ma nel mandare dei segnali sotto terra e poi dal segnale di testo si cerca di capire la dimensione, la profondità e le varie caratteristiche del ciascimento e questo diciamo da una prima idea sia dall'avanti oppure dall'avanti. E queste ispezioni sismiche si possono fare in terraferma, per esempio con queste camionette di brano, si vede la camionette lì, dà una scossa al terreno, al terreno, insomma al sottosuolo e appunto c'è un segnale ripresso che ti dice le caratteristiche del sottosuolo, quindi con queste camionette a volte si possono fare con queste esplosioni controllate come nella figura che c'è lì sotto e infatti questi segnali ripressi danno le informazioni. Questo è la terraferma, nel mandare si fa esattamente la stessa cosa con quella che viene chiamata tecnica dell'ergan perché si chiama il gant, perché appunto c'è questa nave che va avanti e fa questi spari, non abbiamo anche l'ergan di storia, questi spari della complessa molto molto forte e di conferenza molto elevata e ripeto, dal segnale ripresso non si cerca di capire le caratteristiche del ciascimento. Il problema di questo gant è che, insomma, è un processo che può durare qualche settimana, non è più tardissimo nel tempo, non è un processo di curativo. Però il problema è che questi spari hanno una stessità molto molto elevata e vanno a disturbare tutta la, diciamo, la fauna, la fauna macchina, ok? E non qui ci sono delle immagini, insomma, si spazzano decine di titolometri ogni 10-15, ogni 10-15 secondi. Allora, qui si vede lì in cima c'è un fracciato ferro di ergan che è stato fatto sulle cose, ha sempre levato la cosa dall'altro lato, non è un marzo adriatico. E quello che sono, appunto, è che questi spari sono così violenti, ci sono vari problemi aghesi, 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 eccetera, per cui, per esempio, i danni alle uova, le lesioni ai corpi, possibili emorancie, anche a volte la morte, ma soprattutto la verga del senso dell'orientamento degli animali dell'unito, e questo può portare a volte a degli spiaggiamenti, no? Perché gli animali italiani non si sentono direttamente, appunto, vanno poi ad accasciarsi sulle nostre poste. E per farvi capire quanto, non è problema che si tratta di uno, come se la chiesa? E quindi, no, per far capire quanto, che non è un sparetto così, è una cosa veramente forte, questa è una battaglia che viene fuori dal servizio navale statunitense, quindi una cosa ufficiale, dove sono venentati tutti i fattori di rumore più forti del sottosuolo marino. Allora, la cosa più forte che tu possa sentire nel sottosuolo marino è un terremoto, appunto, sul tappo, la seconda cosa più forte è l'uzione di un vulcano e la terza cosa più forte, il rumore più forte che possa esserci sul tappo, sono appunto queste ergani, queste tecniche di spezzoni similiche, che quindi, no, è il rumore più forte possibile originato dall'ordinio, è proprio una cosa violenta. Se vuoi fare conti, no, la scala che ho usato qui è una scala decima, che non è una scala, insomma, in fattore 10, come noi siamo abituati a contare, è una scala un po' differente, ma se uno, insomma, parla la conversione, viene fuori che uno sparo di ergani è di circa un miliardo di volte più intenso che un rumore tipico di un concerto rock. Quindi, no, è una cosa veramente violenta e quindi va veramente ad assorbire questi ergani. Ok? E appunto, qui ci sono un po' gli esempi di schiaggiamenti in varie parti del mondo. Questo qui è forse il caso più replantante nelle coste della Tasmane nel 2009, in cui ci sono circa il procento paesi ritrovati schiaggiando sulla costa, ci sono altri esempi in varie parti del mondo e, probabilmente ve lo ricordate, anche qualcuna, quando ci hanno fatto, per esempio sulla base adriatica, non ci sono schiaggiamenti di sette catodoni. Hanno fatto vari studi, tra cui uno qui pubblicato qualche anno dopo e lo dicono chiaramente da questo gruppo nazionale e internazionale italiano, dove appunto diceva che queste ispezioni sismiche devono essere considerate le potenziali cofattorie, quindi quanto meno possono avere contribuito a questi schiaggiamenti di animali. E poi, che va bene, altri tipi di notizia, sempre su questo stesso tipo di arco, con altre immagini di varie, quindi in specie di insegnamento all'operazione di arco di tutto il mondo. E questa è una ditta che si chiama l'aspetto dell'Internet UK che insieme all'Aberto Sessi vuole appunto eseguire ispezioni sismiche in tutto il nostro adriatico, a partire da Radella, che è la punta più meridionale di Nostra Santa Maria, quindi vogliamo fare tutto questo in tutta la nostra costiera adriatica. Va bene, allora supponiamo che abbiamo fatto queste espressioni sismiche e abbiamo deciso che va bene qui il petrolio c'è andiamo avanti. E allora, cosa dobbiamo fare adesso? La seconda cosa che si deve fare è fare un bubo, una distrazione, fare le articolazioni delle strade. Cioè, noi non dobbiamo pensare di quando andiamo a fare questa privatazione a un bubo asettico e il petrolio viene il sud e tutto a posto. E' molto più complicato di quello di questi pezzi e soprattutto c'è un grande utilizzo di sostanze chimiche che vengono utilizzate per accumulare la percorazione. E sono questi fanno i frutti di percorazione che hanno vari conti, che non servono per aiutano a portare i suddi scatti rocciosi, lubrificare, guidare il processo di cementificazione del posto, sono vari tipi di scopi. La loro conclusione chimica è esatta e segreta. Le ditte petrolitele non li lasciano perché è coperto da segreti o lusse, è un pochettino come no, lo copapola, non ti dicono esattamente cosa c'è dentro. Però, quello che si sa è che ci sono dentro varie sostanze più o meno toxiche, si conoscono insomma alle sottolinee, così, tramite le varie sostanze di indagini azienti, vari tipi di componenti, possibili, sono circa 500, ovviamente sono difficili e questo si trasmaggine perché ovviamente non sono altamente chimici, agressivi, eccetera. Si calcola che per un barile di petrolio di scatto ci sono circa 10 barili di sostanze di scatto fra questi fammi e acqua di risulta che sono acque normalmente che sono disciolte nel petrolio che si sono accumulati nel corso del tempo e che vengono usate anche in questi qui di sostanze petrolifere che appunto rappresentano una fonte di scatto. Qui un po' di ingredienti diciamo così, da questi nomi più o meno pronunciabili, alcune di questi sono appunto anche cancerosini e soprattutto a volte vengono utilizzate sostanze e anche di componite radiativa. Questa è una slide che ho preso dal Dipartimento americano per la traduzione dell'ambiente quindi un ente ufficiale dove dicono chiaramente che appunto possono essere utilizzati materiali radioattivi in queste traduzioni che prolifere per appunto creare questi fatti di performazione. Ora, cosa è il diventare i petrolieri? I petrolieri e conosco tutti i loro trucchetti che ho mai di sentire da un tempo cosa diranno? Vi diranno sì vabbè magari pure utilizziamo queste sostanze valostiche eccetera però noi facciamo i vozi più impreviabilizzati di noi mettiamo queste varie di cemento nulla verrà rilasciato dall'ambiente facciamo tutte le sigillazioni perfette e questo dovete capire che anche se fosse così le loro intenzioni è impossibile da fare su un periodo di tempo che sarebbe praticamente per sempre perché tu non è che fare un vozi vi accontendo se per dieci anni tieni o poi tra dieci anni può scoprire devi essere sicuro che questo non lo farà mai nelle trete però non è possibile farlo prima cosa seconda cosa chi è che fa un monitorale esattamente il posto da tre chilometri sotto terra in tempo reale è difficilissimo anche se non potesse lavorare in maniera cosciente quindi queste creche queste fessure queste cose difetti che vengono fuori con l'ocorio o con il suo quotidiano sono l'ordine del giorno quindi è vero che anche se non potesse lavorare questi posti perfetti sono sempre possibili perdite e inquinamento del solo delle pazze eccetera qui ho un po' esempio questo è adattato per esempio negli Stati Uniti in Doamio dove dicono che nel 2011 hanno ispezionato circa 6.800 pozzi e di questi 6.800 693 avevano un pochettino di problemi strutturali e quindi fa il 10% del totale in un anno hanno trovato il 10% dei pozzi che avevano questi problemi appunto di cedimenti strutturali e questo significa in marea parte del mondo costruire la stessa cosa in Canada dove invece circa il 4% di questi pozzi hanno avuto dei problemi ai investimenti e alle cedimentificazioni di questi pozzi questo è ancora più specifico per il mare dove le produzione sono magari più estreme che sulla terraferma e poi sono sbagliate queste che vengono direttamente dalle conferenze che i petronievi fanno fra di loro ok allora questa qui è la cittura che fa i fanni di perforazione sempre l'estero e dove gli dicono che nel polvo del Messico negli Stati Uniti il 45% dei polosi quindi quasi la metà ha problemi di integrità strutturali quindi ha fessure crete eccetera 45% nei mari del nord in Piltera questa percentuale passa al 34% nei mari del nord della Montella questa è a 18% quindi anche i notegesi che noi siamo con la vita più per tutti hanno circa un posto su 5 con qualche tipo di difetto strutturale di rinforzare